Buongiorno a tutti bianconeri perché oggi bisogna essere più bianconeri che mai sicuramente per la partita perché è una partita importante contro la Lazio semifinale di ritorno di Coppa Italia per avere il pass a questa benedetta finale di Coppa Italia che per noi potrebbe significare comunque molto in una stagione derudente della Juventus però perché ho detto bianconeri perché ieri l'Inter ha vinto si è giudicata questo scudetto il suo diciannovesimo perché sulla non dico sulla carta però sul campo ecco sul campo sono 19 però loro ovviamente ieri erano 20 il scudetto era di cartone perché hanno festeggiato con lo scudetto di cartone a prescindere ragazzi sono battute sono battute però io cito anche un signor presidente di nome Andrea Agnelli che ieri dopo la vittoria dell'Inter nel derby e quindi la conquista del campionato su X ha fatto questo post scrivendo con i numeri romani la data del ventesimo scudetto della Juve nonché 16 maggio 1982 quindi anni e anni e anni e anni indietro ma va bene così noi loro giustamente non sono neanche tanto abituati a festeggiare gli scudetti erano un po' sprovvisti di qualcosa però ragazzi ripeto pensiamo a noi perché ci sta lo sfottò la cosa Moratti anche ci teniamo a dire che se non parla di Juve ogni giorno non riesce a sopravvivere perché questa è la verità il Tour ha citato per l'ennesima volta Calciopoli sotto le righe ma siamo abituati anche a questo veniamo a noi veniamo a noi oggi partita importante come ho già detto prima di ritorno semifinale di ritorno contro la Lazio a Roma non convocato De Sciglio a causa di un'influenza se non sbaglio anche Moise Kem che non ha ancora recuperato l'infortunio però andiamo a Roma penso con spero e penso con delle motivazioni in più rispetto al campionato perché spero che i giocatori sappiano che possono conquistare l'unico trofeo questa stagione che non arriva da tre anni quindi è un obiettivo vero e proprio perché comunque alzi un trofeo c'è la possibilità di alzare un trofeo non semplicemente la qualificazione in Champions League che alla fine trofeo non è ma serve soprattutto alle casse della società ma anche per il giocatore stesso avere una diciamo giocare il prossimo anno una competizione importante quindi la Juventus si appresta a giocare questa partita nonostante ormai lo ripetiamo ogni benedetta settimana sta vivendo un periodo nero nero come non mai forse aveva vissuto non riesce a infilottare passatemi il termine ragazzi a fare un bel filotto di partite in cui non dico che dobbiamo vincerle tutte però almeno due tre partite un pareggio ci può stare anche la sconfitta però devi inanellare almeno qualcosa di positivo ma così non è cerchiamo di farlo in questa benedetta Coppa Italia siamo facilitati tra virgolette perché le partite non sono mai finite fino a quando l'arbitro non fischia ci possono essere addirittura si può arrivare anche calci di rigore quindi l'andata è finita per due reti a zero da parte dello Juventus con il gol di Vlaovic e Chiesa e quindi diciamo che siamo non dico con un passo in finale ma quasi la Lazio di Tutoro sta sta apprendendo sta apprendendo un po' i giocatori stanno apprendendo un po' il modo di giocare di Tudor anche Vlaovic ha parlato bene ovviamente dell'allenatore della Lazio è un un allenatore che fa giocare le sue squadre bene e comunque ci ha sempre rotto le scatole anche col Verona se ben ricordate eh sì scusate ma l'allergia mi sta ammazzando quindi loro saranno ce la metteranno tutta ovviamente pur di arrivare in finale ma spero ripeto che trovino una Juventus affamata affamata almeno per questa per questa coppa per questa questo possibile trofeo che la Juventus può sollevare dall'altra parte si sfideranno poi domani se non sbaglio non sono così sicuro onestamente non ho visto Atalanta e Fiorentina e per poi vedere chi sarà in finale e diciamo non posso dire che lo scoglio più grande oggi perché sì ok la Lazio è una buona squadra ma anche Atalanta e Fiorentina lo sono quindi sarà poi noi per quello che stiamo vivendo quest'anno ogni squadra ci impensirisce quindi pensiamo alla Lazio vediamo di di che pasta no di che pasta siamo fatti no perché lo sappiamo ormai siamo questi siamo altalenanti non siamo continui nei risultati non siamo una squadra che dice ah oggi vedo sicuramente questa Juve anzi forse sotto il punto di vista di una brutta Juve ecco siamo sicuri ecco che la Juve giochi male però cerchiamo di stare uniti almeno per questa Coppa Italia di remare cercando di prendere questo benedetto trofeo che comunque ci dà un po' di morale ecco ragazzi questo è quanto fino alla fine forse Juve facciamo non ve l'ho detto prima non ve l'ho detto prima perché mi sono dimenticato però come sempre vi chiedo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale ci vediamo presto e forza Juve sempre facciamo festeggiare gli italisti dai se lo meritano quest'anno grazie a tutti